Dico che le vittorie fanno le gambe, quando si vince è più facile giocare perché i giocatori giocano con la fiducia in si stesso. Noi le prime due partite abbiamo giocato forse meglio che oggi, però siamo stati molto penalizzati. Oggi è stata una partita che forse non siamo stati perfetti, specialmente dopo 20 minuti, del minuto 20 al minuto 70 penso che potremmo fare molto molto meglio nella parte offensiva del gioco nostra. Defensivamente siamo stati bravi, però offensivamente abbiamo creato poco. Lo che riguarda questo non posso essere contento, naturalmente per il risultato sono molto contento, dà la fiducia a tutti, dà la tranquillità di lavorare e di seguire lavorando. Lo secondo penso che sia stato un equivoco con l'arbitro, perché io solamente lo chiedo, perché nel campo non ho capito se il difensore di Salernitana ha giocato la palla fuori con l'intenzione o ha sbagliato. E lui mi dice se la ridiamo, mi dice ma dovrete fare lo che volete. Dico ok, le dico a Milos se la ridiamo a Salernitana, perché mi sembrava più un gesto di fair play di Salernitana di buttare la palla fuori.